I pubblici ministeri britannici mercoledì hanno affermato di aver autorizzato la polizia metropolitana di Londra ad accusare il magnate del cinema di Hollywood Harvey Weinstein con accuse di aggressione sessuale. Weinstein è stato condannato per stupro e aggressione sessuale e incarcerato per 23 anni negli Stati Uniti nel febbraio 2020, con un verdetto storico per il movimento cancelletto Me Too. La scorsa settimana, ha perso un'offerta per ottenere l'annullamento della condanna in una corte d'appello di New York. Il Crown Prosecution Service, CPS, britannico ha affermato che il produttore cinematografico 70N stava affrontando due accuse di aggressione indecente contro una donna nella capitale britannica. Il Meta ha detto separatamente che la presunta vittima aveva ora 50 anni. I reati sarebbero avvenuti tra il 31 luglio e il 31 agosto 1996. Weinstein è in attesa di processo per diverse accuse di violenza sessuale in California. Le accuse diffuse di abusi sessuali e molestie contro Weinstein sono esplose nel 2017. In totale, quasi 90 donne tra cui Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek hanno accusato Weinstein di molestie o aggressioni. Il produttore di Pulp Fiction ha affermato che tutti i suoi incontri sessuali erano consensuali. Mentre le accuse si riversavano, il Meta ha affermato che stava indagando su una serie di accuse di aggressione sessuale contro Weinstein. Il CPS avvia procedimenti penali in Inghilterra e Galli si autorizza la polizia a sporgere denuncia dopo aver valutato il caso contro un sospetto. Il capo della divisione criminalità speciale del CPS, Rosemary Ainsley, ha affermato che le accuse contro Weinstein sono seguite a una revisione delle prove in un'indagine della polizia del Meta. AFP